Okinawa a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di Clash of Clans Ci eravamo lasciati nell'ultimo episodio dove abbiamo fatto i primi due attacchi di war con il primo account Adesso siamo con il secondo e poi andremo a fare anche con il terzo Quindi io direi subitissimo di raccoglierci tutte le risorse e controllare qui che abbiamo sbloccato questo E mettiamo a sbloccare il prossimo Lo possiamo potenziare un pochettino? Sì, lo possiamo potenziare Lo facciamo arrivare al 5 regà che direi che sta bene e così E per il momento direi che siamo a posto, controlliamo qui che cosa c'era di nuovo bene Le varie risorse regà, andiamo con l'attacchino Intanto guardate che belli tutti i miei alberelli di Natale, dei vari Natali messi insieme anche quello di quest'anno Ne ho spawnato un altro che poi andrò magari a rimuovere Che ce facciamo regà? Facciamo un bel rinforzino per le nostre truppette Che direi very very good Controlliamo un secondo se abbiamo le pozioni per gli eroi e per le truppe Per le truppe sì li abbiamo, per gli eroi no Io direi che ci andiamo a comprare anche una bella pozioncina regà Per potenziare i nostri eroi in attacco E possiamo procedere subitissimo con il primo Allora vediamo un po', io con questo secondo villaggio sono il numero 7 Quindi il mio corrispettivo è il 7 ma è stato già attaccato Potremmo andare su 6 e 5 o al massimo 6 e 8 per recuperare qualche stella Va bene, iniziamo con il 6 Iniziamo con il 6 Se è un villaggio bello larghetto eh regà Questo non lo so se riusciamo a fare 3 stelle facilmente Però noi ci proviamo, magari attacchiamo Secondo me il lato più logico è probabilmente questo qui Perché almeno non ci danno fastidio queste forse lei un pochettino Però ci prendiamo subito Vai, vai, senza pensarci troppo ragazzi Acciamo da quel lato lì Che secondo me è il lato migliore Potenziamo gli eroi così li abbiamo al massimo Anche l'esercito non serviva Ce l'avevamo già al massimo però vabbè Cioè mettiamo lo stesso regà che ce frega Tanto ce l'abbiamo Le polzioncine Ce le sfruttiamo E via Così andiamo più sul sicuro regà Dobbiamo stare attenti, molto molto attenti all'artiglieri aquila Perché sta bella al centro E potrebbe darci abbastanza fastidio Ok, allora qui il draghettino ha pulito Molto 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 good Appena finisce di pulire lui Io direi che ci lanciamo con questi qui al centro Vai regà Senza pensarci troppo Subito una piccola gelo Non ho fatto in tempo A bloccargli tutti gli attacchi Ma ok Vai, vai diretti così Una bella furia qui L'ho messa troppo lontana Un'altra qui Blocchiamo questa Difesa aerea Torre qua De tutto regà Dobbiamo bloccare Dobbiamo gelare l'intero villaggio Dai, che scena possiamo fare Siamo arrivati Belli, belli al centro Io direi che ci stoppiamo anche questo Abbiamo le altre due furie Sì, la mia cassa E so che di sicurezza In teoria Ragà, la cacca è andata più bene Quello che mi aspettavo Il resto Credo che ci siamo posti da casa Sempre sì Ma che tu qua rimani in vita Io non mi chiedo di morire tu E non stiamo ancora da reggiori Se faccio più Giori Cioè, l'anno che fa la reggina Al livello molto alto E' davvero esagerato E sì, perché non sono rimaste più Difisi Pericolose Quindi anche questo È un bello stracchino La bestia che direi Pare che è andata molto 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 good Andiamo subito con il secondo Il 5 È abbastanza interessante Regà Questo lo possiamo attaccare Da questo lato sempre Perché lasciano tutti scoperto Questo lato Che così anche questi Non ci danno fastidio L'artiglieri aquila Forse un po' troppo al centro Sì Scomoda Però Regà, in teoria Dovrebbe Sì Sempre sì I draghi decidono di collaborare Andare molto molto bene Come prima Quindi puliamo Come al solito Un pochettino Ai vari lati In modo che Non ci fanno il giro Questo è un villaggio Che abbiamo già attaccato L'abbiamo attaccato Con il primo account Un villaggio molto simile Nello scorso video Se non mi sbaglio Regà Abbiamo attaccato Un villaggio Praticamente quasi identico a questo E Devo dire che 316 Stiamo portando a casa Qua La stiamo rischiando Perché Non ho congelato Quella zonettina lì Però poco ci interessa Regà Io intanto Vado a piazzare il tutto Tanto comunque noi Ce la dovremmo Fare In teoria Sempre se non decido Di esplodere Tutti malamente Magari se piazzano bene Tutte le nostre Care Gelo Potrebbe essere interessante La question Un'altra Furia Qui In realtà I draghi Ragazzi Stanno a morire Praticamente tutti Questo è stato un attacco Veramente brutto Veramente brutto Ci sono morti tutti Ragazzi L'abilità del guardiano Dove è andato a finire Mi sono scordato Di attivarla Abbiamo fatto un attacco Veramente di merda Fatemelo dire Un attacco veramente Molto molto sceno Che a poco ci è servito Però 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 Dai Dai Almeno Due stelle Presumo Che noi A casa Ce ne siamo portate Sicuro Due stelle E riusciamo a farne Tre Molto difficile Perché Dobbiamo buttare giù L'articchio di aquila Che ci fa Veramente danno Però C'abbiamo ancora La regina Quindi Io non voglio Parlare troppo presto Se la nostra regina Riesce a buttare giù La difesa Eria E non ce la farà mai Non ce la farà mai Perché l'arco X La sta Demassando Niente Un attacco Veramente Male Eseguito Malissimo Eseguito Quindi Aspettiamo Un secondino Che gli arcieri Finiscano di fare Il loro dovere La loro piccola percentuale E ci vediamo Tra pochissimo Per il terzo account E così facciamo Anche due attacchini Con quello Perfetto signori Purtroppo Ci fermiamo Con questo 77% Ci è andata Un pochettino male Mi abbiamo attaccato male Più che altro Perché Stavo anche parlando Mi sono un pochetto Distratto Non è proprio La cosa migliore Però Che ci frega Che ci frega Noi ci vediamo Subitissimo Con il prossimo account Bene signori Eccoci qui Con l'ultimo account Da noi posseduto Allora Io direi Questo non lo possiamo Mettere a migliorare Ci prendiamo Tutte le varie risorse Controlliamo Un secondo al volo Qui Tutte le cosette Belline Del caso Andiamo ad ottenere Le prime Medagline Che Schifo Non ci fanno Regà Direi che è Abbastanza good Direi che è Abbastanza good Questo qui L'abbiamo appena Alzato Al TH12 Th12 Era TH11 Maxato Completamente TH12 Appena fatto Quindi direi Che è molto Molto onesto Noi ci andiamo A fare Non richiedi Ma rinforza In modo che Possiamo Attaccare Subito E ce ne andiamo A fare L'attacchino Regà L'attacchino L'unica cosa Voglio controllare Se anche qui Noi abbiamo Le pozioni Per gli eroi E per le varie truppe Allora Allora Controlliamo Per le truppe Ne abbiamo una Per gli eroi Non ne abbiamo nessuna Quindi io direi che Qualcuna ce la compiamo Tanto comunque Regà le medaglie Degli assalti Le facciamo Molto Molto facilmente Ne prendiamo un paio Così giusto Per scorta Un'altra La prendiamo anche di queste E stiamo abbastanza A posto C'è il nostro piccolo Alberello Natalizio Di quest'anno Già ce l'abbiamo Posizionato qui Di lato Quindi questo Ce ne frega niente Vai Procediamo con il primo Attacco Allora vediamo un po' Noi siamo Con questo account Qui Siamo il numero 20 Quindi dovremmo Attaccare il 20 Il nostro avversario 20 Ma è stato già attaccato Da Andre Max E da Julian Va bene Va bene Quindi andiamo Ad attaccare Il 22 Regà Il 22 Fammi vedere Fammi vedere Sotto a noi Ci sono questi loro Attacchiamo Ci sono questi loro Cosa significa Allora attacchiamo il 22 Questi lì dobbiamo lasciare Agli altri Credo che ci convenga Provare sul 22 Per forza E forse O il 24 O recuperiamo Il 23 Dai Vediamo Intanto iniziamo Con il primo attacco Il 22 È un villaggio Bello esteso E questo a me Preoccupa un pochino Perché i draghi Non mi piace attaccare Villaggi troppo Troppo estesi Perché quelli più Ristretti Sono facilmente Distruttibili Allora Vediamo Difese Inferno singole Eh Regà Inferno singole Ci fanno male Del male fisico serio Quindi Dobbiamo stare attenti E attaccare da questo lato Qui sotto A salire su Penso che Probabilmente Sia il compromesso Migliore Anche se Vorrei Vorrei Fare Vorrei fare Vorrei fare Una cosa Un po' più passas E provare a mandare E ti pareva Che non ci andavano Dritte là Ma come ci volevi Dicevo Come ci volevo giocare A casa Regà Che non andavano Sua difesa aerea Ci ho provato L'ho spiegato Quanto come colpire Così che accado Però va bene Dai Speravo di riuscire A buttare giù Quella difesa aerea Non sarebbe stato male Per niente male Per niente Per niente Però Vai Proviamo l'attacco Lo stesso Regà Senza pensarci troppo Non ho attivato Neanche le pozioni Sono veramente Rincoglionito Prima di attaccare Non le ho Atticare Però Dai Dai che stiamo andando Abbastanza Al centro spediti In teoria Se noi siamo attenti A quest'inferno qui Che è pericolosissimo Molto molto pericolosa Le nostre truppe Stanno Entrando Entrando Regà Non riesco manco a parlare Stamattina sto Leggermente Cuso Però Sono entrate All'interno Quindi in teoria Regà Noi Due stelle Ci siamo portate Tranquillamente a casa Le tre Non lo so se ce la facciamo Non lo so se Ci siamo portando Tre a casa Però due Comunque sì Di due Direi che è comunque buono Come attacco Certo non è Tra i migliori Non è il Il miglior risultato Però Lo possiamo Accontentare Comunque Essendo abituato io Ad attaccare Con Truppe molto più forti Del primo Del primo account Nel secondo Nel terzo Alcune volte Ad affrontare Alcuni villaggi Mi si trovo un po' Disorientato Specialmente se attacco Uno dopo l'altro Perché Ovviamente Le truppe Di un certo Di una certa Livello Di un certo livello Diciamo che Si comportano In maniera differente Sono più forti Fanno più danno Quindi Vanno anche Magari più velocemente Verso il centro E' Differente Punto E fondamentalmente Se giocate a clash of clans Sapete anche voi Che è differente La questione E Non è proprio il massimo Andare poi ad attaccare Con truppe più scarse Un conto è Essere abituati Con truppe scarse E provare Con truppe più forti Bono Al contrario E' un po' Pessimo però Vabbè 78% Due steline Ce le siamo portate a casa Comunque Non è malvagissimo Stiamo abbastanza In recupero Quindi direi che È molto molto good Io metto ad addestrare Le prossime E direi che Ci facciamo questa volta L'attacco Anche con le pozioni Degli eroi attive Che se le avevamo attivate prima Avremmo fatto sicuramente Molto molto più male Ci attacchiamo Il 24 Vediamo un po' Che villagietto è Questa è ancora più largo Però in teoria Le difese Non sono Così esagerate Cioè La difese Veramente scarsa Quindi io punterei Punterei Facciamo un attacco Un po' Particolare Ce la proviamo In questo modo Facciamo un attacchino Verso L'artiglieria Aquila In modo che Ce la buttiamo giù Subito Potenziamo L'esercito Che Per le truppe Non ci fa tantissimo Però Per gli eroi Raga Fa la differenza Fa la differenza Poi ci mettiamo Una Due E ci mandiamo Secondo me Raga Ere barbaro Con Dietro il careto In modo che Ce lo butta giù Se ci butta giù L'artiglieria Aguila Noi raga Stiamo a Vantage Agius Perfectus Per inventarci Qualche parola Nuova Io nel mentre Inizio a pulire Un pochettino Qui Che Se questo Ce la fa Lo distrugge L'ultimamente lui Se no Esplode E ci pensano Le nostre Truppettine Del caso Come sta succedendo Perfetto Ottimo Raga Vai subito A piazzare Tutto il restante Delle truppe Qui Indietro Con Gli altri due eroi Si va Di furia Prepotente Contro Il municipio Trovato L'attacco Un po' Particolare Un po' Ambicuo Aulico Non lo so Però Raga Pare che sta per funzionare Quindi A noi che riesce a fregare Sblocchiamo subito Questa qui L'inferno Che ci fa veramente male Che ci fa veramente male Questo inferno singola Non è il massimo Anche se con le mucolfiere Facciamo male noi Io non ho dovuto neanche Attivare L'abilità Del Guardiano Perché Direi che tre stelle Noi ci siamo portati a casa Tranquillamente Con questo attacco Un pochino così Particolero Abbiamo ancora le pozioni Quindi Le buttiamo giusto Per sprecarle Perché tanto che ce ne frega Non paghiamo più le risire Buttamole Va bene Così Giusto Che da un po' E mettiamo un'altra Qua E le tre stelle Ce le siamo portate A casa Quindi Direi che tutto sommato Non è andato malissimo Non è andato malissimo Ottimo Così Mettiamo di nuovo in addestramento E che dire Praticamente con sei attacchi Ci siamo portati a casa Ehm Sei Di più Di più Altri Account Quindi il secondo E il terzo O maggiormente Il primo Scrivetevi tutto quanto qui sotto Nei commenti Condividete il video Con i vostri amici Iscrivetevi Noi ci vediamo Alla prossima Bella raga Ciao